Capità Lima e Di Cristina, dopo il brutto esordio finalmente una bella vittoria Abbiamo vinto 10 a 2, una bellissima partita, una tripletta mia di Walter e di Ciccio Scarto di 5 volte, abbiamo fatto 4 punti, insomma una partita molto buona Qui c'è l'organizzatore che mi tirava la maglietta Cosa è migliorato rispetto all'altra volta? Abbiamo avuto l'assetto buono in difesa, siamo stati centrali in Mattariano, abbiamo avuto il bomber Ciccio Tornato Scrimo, che conosceva come portiere di Portoparo, il primo Portoparo Ex portiere, bravissimo in Porto, però non capisco perché ha cambiato l'uomo Era il passaggio mancato, l'altra volta mancava lui, l'altra volta, però con lui ci siamo ripresi Non facciamo che siete Scrimo dipendenti Ma anche se, se ne gioca tutte a me Va bene, va bene così Comunque, mi ero in campo o chi è stato? Il migliore in campo è stato Ciccio E Scrimo dipendenti Allora è proprio così conferma che siete Scrimo dipendenti Prossimo turno Sporting Mania, che stanno per adesso giocando contro i Durex Prossimo turno dobbiamo stare attenti Vediamo di non farci ammonire a Spell Prossimo turno a zero punti ci vanno bene Vabbè, allora non si dice Mi raccomando ragazzi, ok? Grazie, ciao 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 ciao